Non solo la realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro a Muraglia. La riforma sanitaria del governo Acquaroli della regione Marche prevede a livello infrastrutturale nella provincia di Pesaro anche la realizzazione di un ospedale di comunità nel territorio comunale di Monbaroccio. Una nuova forma di servizi ospedalieri che sarà a metà strada fra i nosocomi di Pesaro e Fano e che sarà costruita su 14 mila metri quadrati nell'area sportiva monbaroccese. Area che il comune ha ceduto ufficialmente ad Asur con un atto sottoscritto dal notaio Monfuccio di Cagli alla presenza dell'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli. L'ospedale sarà realizzato con un investimento di fondi PNRR di 3 milioni e 600 mila euro. L'opportunità di avere un ospedale di comunità a Monbaroccio diventa per noi un elemento fondamentale sotto tutti i punti di vista. Non voglio entrare nel merito di quelli che possono essere gli approfondimenti lavorativi e dei posti di lavoro che si possono creare ma sicuramente dal punto di vista del valore di Monbaroccio che riguardano l'aspetto socio-sanitario. Qui Monbaroccio è stato sempre fortemente legato a fronte di strutture già esistenti e che diventano ancora più determinanti a fronte del loro passato per dare una risposta al futuro. L'ospedale di comunità diventa questo, diventa una realizzazione nevralgica fra le due più grandi città della provincia, la seconda e la terza delle Marche, da un punto di vista baricentrico per quelli che possono essere i servizi che la stessa struttura, ospedale di comunità appunto, andrà a dare al territorio una struttura che si realizza in un contesto provinciale laddove sono previste quattro strutture, quattro ospedali di comunità Cagli, Fossombrone, Sasso Corvaro e Monbaroccio appunto. E Monbaroccio sarà l'unica struttura realizzata da nuovo. Quindi per noi è un valore aggiunto sotto tutti i punti di vista. I servizi che dovrà offrire un ospedale di comunità dovranno essere sicuramente di stile infermieristico perché la gestione è infermieristica. Cosa offrirà al suo interno? Questo ce lo dovrà definire la Regione sulla base del piano socio-sanitario che è in fase di iscrizione e che speriamo sia licenziato quanto prima possibile. Chiaro è che alcune proposte le stiamo avanzando, chiaro è che è la Regione che detta le fila da questo punto di vista e Monbaroccio sarà pronta ad assecondare tutto ciò che l'assessorato e il Presidente vorranno vagliare insieme all'Asur o alla nuova AST perché appunto c'è una riforma che riguarda anche l'organizzazione di Asur e Marche Nord con la nuova AST provinciale e quindi con questi ci dovremo confrontare. Il cronoprogramma è già stato vagliato, la realizzazione dovrebbe essere garantita sicuramente entro l'aprile 2026. L'inizio dei lavori a fronte di un progetto esecutivo che è in itinere e l'affidamento dei lavori che è previsto per marzo-aprile 2023 dovrebbe dare il là ai lavori nell'estate prossima, quindi estate 2023, per essere realizzato, mi auguro, nell'arco dei due anni. Soddisfazioni per il nuovo futuro sanitario che presuppone anche un impegno a nuove soluzioni in ambito sportivo per sostituire il campo da calcio che verrà a mancare. Mi lasci dire che devo ringraziare la società sportiva in primis perché quando qualche mese fa mi confrontai con loro a fronte di questa importante opportunità per il territorio furono i primi a sostenere di portare avanti questo progetto, anche facendo venire meno una struttura che loro stavano impegnando con i nostri ragazzi a livello sportivo. Abbiamo vagliato con la stessa società altre aree, di cui una è venuta in considerazione maggiore rispetto a delle altre e su questa stiamo lavorando sia in termini di progettazione, abbiamo messo circa 18-20 mila euro di progetto esecutivo, sia in termini di realizzazione, quindi con fondi comunali, con fondi europei piuttosto che regionali o ministeriali, inseguendo dei bandi che sono in itinere, cercheremo di realizzare una nuova struttura sportiva prossima a quella esistente, quindi utilizzabile di nuovo per i ragazzi e per lo sport in generale. non visto solo come società sportiva calcio, ma visto nello sport nel suo complesso.